Da parlare Cerchio Ifior attraverso Tuglia e Gian la farfalla Domanda Vorrei dire una cosa soltanto Bisogna anche tenere presente che c'è l'intenzione associata alla volontà e l'intenzione invece non associata alla volontà Scifo Questo complica però ancora le cose a questo punto perché ad un termine indefinito come quello di intenzione si associa un termine altrettanto indefinito come quello di volontà il che certamente non rende le cose più accettabili più abbordabili Posso lasciarvi a completamento forse definitivo della frase usata tanto tempo fa un'ulteriore piccola aggiunta che forse può mettere in luce diversa tutto il discorso Ovvero non più soltanto l'intenzione altruistica giustifica l'azione quanto l'intenzione altruistica consapevole giustifica l'azione E su questo ci sarà da parlare, da parlare, da parlare E su questo ci sarà da parlare, da parlare, da parlare, da parlare, da parlare, da parlare